Davide ha ragione, non bloccare questi messaggi in gioccio e anche Salvatore divulga il numero di stastro che ne astutiamo noi, non c'è bisogno, però non togliere questi messaggi Vabbè, ma che l'ha fatto per noi? Eh, la vecchiaia, la vecchiaia Eh, vabbè, l'ho riattivato comunque Eh, ma avanti, perché vogliono rovinare le colliuta, non riuscire Non ci roviniamo Non lo riuscire, coglionazza, tanto tagliamo il pezzo dove... Ah, minutaggio ragazzi, che così taglio il pezzo Perché proprio questo andrà, può avere anche mezzo secondo di Gloria Sono vecchio rimba, Geluccio Eh, Geluccio, chi è che si ricorda il mio otaggio che sta scema, chiamato, che così lo tagliamo? Comunque, ehm, ho riattivato wifi e se volete richiamare tranquilli potete farlo Non ci impedisce, non ci impedisce nessuno di fare le colliù Dai, ti puoi salutare il mio amico Bruno Grazie, Geluccio Dopo lo vedo No, dai, fai riattivare il... E' già attivato 23-24 minutaggio Ok, grazie, dopo cancelliamo sta cogliona Allora, io l'ho riattivato Whatsapp, eh Ehm... Ma ancora, sei chiamate Chi vuole chiamare Qua c'è il telefono Come non funziona? No, no, deve funzionare per fuoco Grazie che dicono mentisamente Ehm... Ehm...